Buongiorno a tutti, oggi voglio parlare di una cosa un po' diversa dal solito, una cosa che mi è venuta in mente Diverse volte in realtà nella mia vita, però ovviamente in età adulta vengono fuori molto spesso, insomma fai uno più uno e ti rendi conto che sono cose che ti sei sempre domandata Ho comunque sensazioni un po' strane, un po' ambigue, che io stessa non ho mai saputo dargli un nome e un'identità Infatti forse è questo più la difficoltà e lo stress che queste sensazioni mi creano, quando queste sensazioni non sono definite E quindi voglio parlare di queste sensazioni Sto parlando, sto facendo una fatica bestiale a sedermi Perché ultimamente, non so se è per colpa della corsa che faccio, ma ho i muscoli delle gambe un po' deboli Comunque farò degli accertamenti E allora, di quali sensazioni sto parlando? Sto parlando di quelle cose Premetto che sto facendo un discorso difficilissimo, che solamente io mi potevo ficcare in una roba del genere Ma ci riuscirò, come sono riuscita per gli altri video, riuscirò anche per questo video A passare il concetto Sto parlando di quelle sensazioni, molto banalmente, di quando dobbiamo prendere delle scelte E non so se avete presente Quando poi rimane tutto un po' lì in superficie Non sapete neanche voi in modo chiaro come definire le cose Però vi rendete conto di una cosa, che state procrastinando da brutto Che state procrastinando da brutto E non capite neanche voi il perché Questa è una sensazione che mi crea molto nervoso Mi crea molto nervoso perché io sono una tipologia di persona che Quando pensa alle cose le vuole vedere delineatissime Cioè io devo avere chiarezza mentale E percezione che la cosa sia nera o bianca Quindi interfacciarmi ogni volta con questi pensieri Per me è una rottura assurda di zibedei Però sono arrivata un po' a comprendere Come mai si instaurano questi pensieri E questo stato strano di malessere Tipo influenza generale Che uno poi si mette lì nell'angolino È tutto mogio mogio Perché alla fine comunque se non abbiamo chiaramente idea Di quello che sono i nostri pensieri E le cose che dobbiamo fare Ovviamente ci accasciamo ad un certo punto Perlomeno io parlo per la mia esperienza Come in ogni cosa Quindi Tante volte mi sono resa conto Che questi pensieri derivano da un fatto Innanzitutto perché non siamo esperti in quella cosa Quindi tante volte rimangono come dei buchi Magari abbiamo un'idea Sembra tutto perfetto In realtà noi già la vediamo quasi delineata Però non la mettiamo in pratica Perché almeno per il mio caso È come se ci sono dei piccoli buchini Che ovviamente fin quando non vengono delineati È difficile che prendiamo la palla al balzo E andiamo all'azione I piccoli buchini sono tutte quelle cose minuziose Proprio tecniche di come andare all'azione O dei dubbi Perché magari a volte abbiamo delle idee un po' generali Tipo delle bozze pensiero Però non abbiamo le competenze tecniche Per metterle in atto Quindi magari dobbiamo per esempio Fare delle telefonate per capire Quelle due o tre cosine Come succede nel mio caso A volte io ho un pensiero grande Cioè mi rendo conto io stessa Che ho un pensiero oltre Non dico oltre la realtà Perché per come sono fatta io Altrimenti non avrei questi tipi di pensieri Noi non possiamo mai avere un pensiero Che poi rimane Raggiunge un'apice e rimane lì In realtà noi possiamo sempre evolverci Quindi per questo mio modo di ragionare A volte i progetti che mi faccio in testa Sono troppo grandi Cioè sono troppo E' anche sbagliato dire troppo grandi Perché secondo me appunto L'essere umano in realtà può raggiungere quello che vuole Ovviamente impegnandosi E avendo i mezzi E ovviamente facendo tutta una serie di percorsi Ovvio Però effettivamente parlo di un progetto grande Un po' anche fantasioso Nel momento in cui Devo rapportarlo alla realtà del presente Che magari mi faccio dei viaggi assurdi Però poi se torno alla realtà Mi rendo conto che Io per esempio non abito in quel posto Oppure io non conosco quella persona O non ci ho mai parlato Quindi effettivamente poi Se lo metto a paragone con la realtà Mancano dei punti Cioè è stata evidentemente Un pensiero alla grande E' stato un pensiero Un po' distaccato Fatto proprio per arrivare A costruire il pensiero stesso Non so se mi capite In questo gioco Un ruolo importante L'ha avuto la fantasticheria Perché? Perché con la fantasticheria A volte riusciamo A creare un percorso mentale Poi che non sia esattamente Quello che poi combacia con la realtà Lo dobbiamo vedere In un secondo momento Però la fantasticheria Almeno per il mio caso Gioca a fattore Nel momento in cui Io non ho tutti gli elementi Però comunque io devo capire Come fare una cosa Allora Fantastico Immagino E metto giù Un prospetto Un po' generale Di come mi piacerebbe Fare una cosa Ma insomma Questa non penso Che sia una cosa Che faccio solo io Perché sono pazza O perché sono asperger E' una cosa che fanno tutti Si chiama fantasticare E immaginare La vita che si vuole E' una cosa che fanno tutti quanti Giusto? Succede che facendo così A volte si fa con Pensieri che siano già a disposizione Con cose scusatemi Pratiche che siano già a disposizione Altre volte C'è la fantasticheria A livello puro Che ovviamente E' proprio E' proprio Una cosa distaccata Ma quello è un altro discorso Non sto parlando di quello Quindi cosa succede Nel momento in cui Ci rendiamo conto Che torniamo con i piedi attenti A terra E vediamo che Abbiamo fantasticato Sembrava anche un progetto Che andava bene Però effettivamente Mancano quei buchini E ci rendiamo conto Che non stiamo mettendo In pratica le cose E non sappiamo come fare Fondamentalmente Tutto notare Che questo tipo di atteggiamento Almeno per quanto riguarda La mia persona Arriva in atto Nel momento in cui Appunto Non ho a disposizione Tutti gli elementi E' come se La mia mente E' stata troppo veloce A fare un ragionamento E quindi L'ho accantonato Un attimo Poi la mia vita Che ragiona veloce Che ragiona velocemente E quindi fantastica Giustamente Però appunto Gli elementi Arriveranno in un secondo momento Quando sarà proprio il momento Di metterlo in pratica A volte ho notato La situazione Con nuovi elementi E poi ricomincio Conto che a questo punto Abbiamo capito Anche come fare Determinate cose E quindi Possiamo sostituire I buchini Con tutte le cose Che abbiamo appreso Nel frattempo Se non venissero fuori Cosa bisogna fare Cosa bisogna fare Cosa sicuramente Facciamo già tutti In modo inconscio Perché giustamente Non è che A nessuno di noi Piace rimanere Nella confusione mentale In questo caso A un certo punto Bisogna mettere giù Cioè Quando ci si rende conto Quando E' palese Che stiamo procrastinando Troppo su quella cosa Stiamo troppo procrastinando E effettivamente Anche ai nostri occhi Non va più bene Sta cosa Bisogna mettere giù Un piano Questo in realtà Si può fare In qualsiasi momento Cioè Se una persona Ha voglia Come ad esempio Io in certi casi Della settimana Mi piace mettermi lì E organizzare Tutte le mie cose Quindi in questo modo Faccio chiarezza mentale E tante risposte Arrivano anche facendo così Proprio perché Lo faccio di proposito E scrivere Innanzitutto Il progetto Cioè Di che cosa stiamo parlando Scrivere Qual è il progetto Scrivere Quali sono E scrivere la domanda Qual è La cosa Di questo progetto Che ho appena messo giù Che Che non mi è chiara Qual è il dubbio Qual è E questa è la domanda Qual è il dubbio Di questa cosa Che non mi è chiara Cos'è che non mi è chiaro E lì Ci mettiamo un attimino A ragionare Con calma E Dedichiamogli Almeno una mezz'oretta A questa cosa Poi vabbè Se la risposta Vi viene subito Anche cinque minuti Il resto della mezz'ora Fatevi un panino O un pacchetto Di patatine fritte E O una torta Vegan Quello che volete In base alle vostre Alle vostre competenze E Volontà alimentari Date questa risposta E date questa benedetta risposta Perché a volte Almeno per quanto riguarda Il mio caso Sono anche delle cose Molto banali Cioè Sono proprio delle cose Molto banali Solo che è come se Il mio cervello Non vuole fare quel percorso Non vuole arrivare a fare A mettere giù quel ragionamento A volte Per paradosso Lo vede anche stupido Quindi lo snobba Però è proprio Quell'elemento stupido Che serve per Per completare il puzzle Cioè a volte veramente Sono cose semplici Solo che Essendo che pensiamo A tante cose E facciamo tante cose E magari i nostri ragionamenti Iniziano di qui Iniziano di là Poi si fermano Cioè è tutto un po' Un rebus qui Ovviamente Non c'è quella cosa Poi dopo un po' Almeno per il mio caso Facciamo troppo Faccio troppo Poi arriva un momento Che mi stufo Perché ovviamente Sto ragionando troppo E tutto diventa Sia importante Che inutile Quindi in realtà Poi non dà importanza A niente Ci dormo sopra E domani è un altro giorno Però capite bene Che Non va bene Effettivamente Non va bene Su certe cose Bisogna Almeno le cose importanti Bisogna Fermarsi un attimino Almeno farsi una scretta Delle cose importanti E quelle lì Almeno comprendere Perché stiamo procrastinando Così tanto Quali sono le domande Appunto Possono essere domande Un po' complesse O domande Un pochino più stupide Un po' più semplici Alle quali possiamo Dar subito una risposta In questo modo Ci sbrogliamo la vita In un modo Abbastanza Imbarazzante E interessante Va bene Buona giornata